ore 5 e 10 ragazzo che ci segue? dal canadese andiamo a vedere tutta la coda tutta la coda per l'iPhone 4 quando mancano meno di due ore all'apertura dei battenti noi è inutile dire che siamo cotti come zucchine a vapore però ne è valsa la pena perché comunque ce lo ricorderemo sembrava a un certo punto che non arrivasse nessuno per questo iPhone invece durante la serata durante la notte molta gente è arrivata